Coraggio! Andiamo! Ok, uno è qui e l'altro è lì dentro. Basta, veloci! L'ambulanza è qui. È tutto finito, Sam. Apri la bocca? Apri. Hanno usato la corrente, eh? Va tutto bene, Sam. Ci sono traumi dentali multipli. Probabile frattura della mandibola. È necessario un intervento chirurgico. Piano, piano, piano! Sam, siediti. Dix! Gli hai detto chi è, Michelle? No. Pensi che Siderot le abbia creduto? Non gli ho detto chi è. Non gli ho detto chi è. Dai, Sam. Adesso lasciati portare in ospedale. Ti ringrazio. Sperghiamoci. 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 È ancora agitato dopo la sedazione. Parametri pressione apposta. Mettetelo sul lettino. Pronti? Al mio treno. Uno, due, tre. Tre litri di soluzione salina. Quattro milligrammi di morfina. Verifica la troponina e la creatinina. Sono il dottor Garcia. Vi faccia vedere la bocca. Detective. Le ho detto di aprire la bocca. Mi ha sedito. Ha ingoiato molto sangue. Per favore, apra la bocca. Dovrò sedare. Aspetti. Dategli un minuto. Dix, fa come dice il dottore. Dix. Dix. Coraggio, agente Bly. Abbiamo da fare. Dix, fa come dice il dottore. Dix. ります. Sì. Dix. Sì. Dix. C'è Рat. Dix. Dix. Grazie a tutti.